La Terra è un pianeta blu e non solo se osservata dallo spazio. Circa due terzi della superficie terrestre sono ricoperti di acqua. E nell'acqua riesco a provare, a sentire certe emozioni particolari, ma soprattutto a stabilire una sensibilità diretta con il mio corpo. La mer, la madre, l'océan, la vita viene dall'océan. Per chi come me ha fatto dell'apnea uno stile di vita, l'acqua rappresenta il mezzo per scoprire il delfino che è in noi. È il mio elemento preferito e riesco a non pensare, non pensare assolutamente a nulla, semplicemente osservando ciò che è intorno. Per me l'acqua è l'elemento fantastico che mi aiuta a superare le barriere della disabilità. Quando mi penso all'océan, mi sento sempre molto rilassato. e quando mi sono circondato all'océan, mi sono molto fascinato per immaginare quanti animali vivono in questo mondo dell'acqua. È un po' come un rapporto con un vero amico. A volte ci dici, a volte ci stai bene, a volte ti allontani, a volte non ti capisci, però passa il tempo e quell'amico c'è sempre. È un posto assolutamente magico, mi permette di volare liberamente e muovermi in qualsiasi direzione. Il posto in cui mi sento veramente, completamente libera. E quindi davvero proteggiamo l'acqua perché ne abbiamo tutti bisogno. Gli oceani producono ossigeno, regolano il clima e ospitano una ricca biodiversità. Rappresentano l'origine della vita e proprio per questo motivo vanno salvaguardati e tutelati. Gli oceani producono ossigeno, regolano il clima e proprio per questo motivo vanno salvaguardati.